Come è arrivata la cinquantesima edizione? Oltretutto i temi che cerca di mettere anche in evidenza sono temi che riguardano strettamente il nostro territorio e che guardano anche alle prospettive del nostro territorio. Parlare di agricoltura, parlare di turismo, parlare di cultura significa avere attenzione a quei settori che possono costituire un valore aggiunto guardando al futuro. Un'occasione molto importante non solo per la ricorrenza ma come si diceva nei discorsi ufficiali perché è stato il momento nel quale si sono potuti inaugurare delle strutture, in particolare quella del mercato coperto, che è nelle attese e nelle radici degli argentani un momento di grande importanza. Il centro culturale che noi abbiamo chiamato Mercato perché è la nuova sede dell'ex mercato coperto di Argenta. Per noi è sempre stato un progetto che faceva parte anche del mio programma di legislatura, quindi era già stato presentato tre anni fa con l'intenzione di essere un progetto che noi volevamo realizzare all'interno di questa legislatura perché ritenevamo che fosse importante, raccogliendo un'eredità dal mio predecessore Ricci, che Argenta avesse un punto così importante e centrale dopo poter fare culturale perché è molto ok. Sicuramente è una scommessa per l'amministrazione comunale di Argenta, è il recupero di un luogo storico, è stata sede anche della biblioteca comunale dall'82 all'86 prima che si trasmisse i cappuccini, ritorna a essere un luogo di cultura, saranno mostre, conferenze, conveni, credo che servirà un po' di tempo per capire quale indirizzo dare in effetti alla struttura. È nuova, appena nata, le idee sono tante, si tratta di capire anche quali saranno le esigenze degli argentani, quindi di capire anche di mettere insieme le idee che abbiamo noi con le esigenze che ha la popolazione per riuscire a far sì che ci sia una crescita comune sia da parte degli argentani che da parte del centro.